Oggi vi parlo di un libro che trovo bellissimo anche solo esteticamente ed è questo di Helena Arendt, I regali della natura. Il libro spiega con delle meravigliose fotografie come vedete come trasformare in oggetti di arredamento, in quadretti, in cosmetici, in cibo ciò che si può raccogliere in natura. Di Helena Arendt c'è anche un altro libro che ho già visto e apprezzato tantissimo che si chiama Facciamo i colori che vi permette di lavorare frutta, verdura e elementi naturali per farne dipinti, per tingere eccetera. Ma torniamo a questo libro che vi voglio presentare oggi. Il libro è diviso in diverse parti, suddivise sia per stagioni sia per tipologia di oggetti che si potrebbero raccogliere. Primavera estate le piante fresche, primavera estate le piante essiccate, in autunno le foglie oppure i semi e i frutti, il legno in autunno ed inverno così come la terra e la pietra e infine un'ultima parte tutte le stagioni miscellanea con vari oggetti da raccogliere. Perché vi parlo di questo libro? Perché per me è così importante questo libro? Perché attraverso tutta una serie di ricette in realtà quello che ci permette di fare a noi adulti ma anche ai bambini ovviamente è di entrare o rientrare più a contatto con la natura in modo tale da guardarla con più attenzione per scoprire i regali che ci può fare. Attenzione che regali non significa depredazione, significa raccogliere solo ed esclusivamente quello che ci serve e che non è protetto. L'ho scritto anch'io in alcuni miei libri soprattutto quelli dedicati alla raccolta di piante spontanee che è una facoltà il saper raccogliere, il saper riconoscere fondamentale per capire o per tornare a capire che siamo completamente parte della natura e questo è particolarmente importante da far capire ai bambini fin da subito in modo tale che sentano dentro di sé anche se per molti anni rimangono staccati dalla natura sentano il richiamo e questo è un libro che può aiutare a far sì che rimanga questo amore, si crei questo amore per la natura da parte dei bambini portandoli nella natura a cercare sassi, pietre, fiori, foglie e trasformarle poi a casa per portare anche a casa un po' di natura per ricordarci che effettivamente là fuori nelle nostre quattro mura c'è tutto un mondo da scoprire